grazie e a proposito di aprire direi che ora chiamiamo la dottoressa Margaret Carr che aprirà questi lavori presidente del movimento dei focolari eletta dall'assemblea generale nel 2021 e la terza presidente del movimento donna di dialogo sin dalla per la sua provenienza e per il suo ricco patrimonio culturale che la porta dalla natale palestina agli stati uniti all'italia a qui e allora lasciale la parola per l'apertura dei lavori sua eminenza cardinal fare il sua eminenza monsignor grec signori vescovi signor rettore vincenzo bonuomo professori della pontificia università lateranense dell'istituto universitario sofia dottoressa linda ghisoni illustri partecipanti a questo convegno e rappresentanti di movimenti e nuove comunità fratelli e sorelli sorelle tutti e con grande gioia e gratitudine che a nome dei responsabili dei movimenti e delle nuove comunità ecclesiali promotori di questo evento apro i lavori di questo convegno da tempo così atteso desidero esprimere innanzitutto una preghiera di lode e di gratitudine allo spirito santo che alla vigilia del terzo millennio ha voluto arricchire ancora la chiesa e l'umanità di numerosi carismi come non ricordare san giovanni paolo secondo che nella pentecoste del 98 ha sottolineato questi doni chiamandoci alla maturità ecclesiale e a una sempre maggiore comunione tra noi e con la chiesa ed oggi un grazie personale e collettivo va a papa francesco che sin dall'inizio del suo pontificato ci accompagna e ci incoraggia indirizzando il nostro cammino anche attraverso il dicastero per i laici la famiglia la vita infine ringrazio gli organizzatori di questo evento la pontificia università lateranense e l'istituto universitario sofia il presente convenio ha un precedente nel 2018 nella giornata di studio carisma e istituzione in movimenti comunità ecclesiali durante la quale la riflessione ha messo a fuoco la novità di cui le nuove realtà ecclesiali erano portatrice e le relative questioni in parte inedite che oltrepassavano al quadro canonico esistente con la grazia di dio e il cordiale sostegno del dicastero quella giornata ha prodotto buon frutto e ha visto la pubblicazione degli atti nella colana studi giuridici della libreria editrice vaticana ma già allora si avvertiva la necessità di un ulteriore approfondimento anche teologico arriviamo così all'odierno convegno sull'identità dei movimenti e delle nuove comunità la parola identità potrebbe far pensare ad una definizione unitaria e statica ma sappiamo bene che la fantasia dello spirito è infinita e così la chiesa che come ricorda papa francesco e poliedrica e in continua evoluzione basta uno sguardo alla persona di cristo al mistero della santissima trinità a lui rivelata per prendere coscienza che l'identità non si realizza nella chiusura o nel possesso ma nell'apertura all'altro e nel dono di sé e il dono che ci restituisce a noi stessi e ci fa diventare quelli che siamo nel piano di dio ed è proprio di questa identità relazionale comunionale ecclesiale che oggi vogliamo trattare tutto ciò avviene in un particolare contesto cioè nel cammino di una chiesa sinodale come suggerisce il sottotitolo del convegno un cammino di cui i movimenti le nuove comunità continuano a fare esperienza poiché vi partecipano persone di tutte le vocazioni che alla luce dei rispettivi carismi portano le molte sfumature del messaggio evangelico alle donne agli uomini di oggi in questo tempo in cui tutta la chiesa si orienta verso un stile sinodale siamo chiamati a un ulteriore passo camminare uniti non solo all'interno delle nostre realtà ma insieme a tutti l'esperienza del processo sinodale mondiale è quanto mai significativa ed esemplare quante sorprese lo spirito santo ci potrà riservare facendoci scoprire in modo nuovo anche la nostra identità ma dobbiamo riconoscere che questo cammino procede in mezzo a numerose sfide sociali economiche politiche dove la pace è fortemente minacciata come vediamo qui in europa e in diversi altri punti del mondo dopo due anni di pandemia purtroppo si intensifica in maniera sempre più cruda quella che il santo padre ha definito la terza guerra mondiale a pezzi dall'interno di tanti nostri contesti sociali ci raggiunge in molte forme il grido dell'umanità che è un forte richiamo ad andare oltre ogni autoreferenzialità come movimenti e comunità e come chiesa siamo chiamati alla fraternità a ravvivare innanzitutto il nostro rapporto con dio e prenderci cura dei nostri fratelli e sorelle e dello stesso creato solo insieme a tutti possiamo rispondere alle sfide presenti e future e lo possiamo fare col contributo specifico delle nostre identità che diventano dono reciproco e comune ogni volta che in rete apriamo mani e cuore all'umanità che soffre a questo proposito vorrei concludere con una espressione molto efficace di papa francesco del 8 maggio scorso in occasione del 59esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e cito siamo come le tessere di un mosaico belle già se prese ad una ad una ma se solo insieme compongono una immagine brilliamo ciascuno e ciascuna come una stella nel cuore di dio e nel firmamento dell'universo ma siamo chiamati a comporre delle costellazioni che orientino e rischiarino il cammino dell'umanità che possa essere così. Grazie per l'ascolto. Buongiorno a tutti. Prima di tutto saluto cordialmente le autorità accademiche presenti e tutti i partecipanti al convegno teologico. In questa giornata in cui si riflette sulle identità dei movimenti nel contesto della sinodalità della Chiesa a me è stato chiesto di volgere lo sguardo al futuro e da offrire qualche spunto di riflessione sulle sfide del terzo millennio che attendono i movimenti e le nuove comunità. Ho dovuto fare necessariamente una scelta. Ne indico dunque quattro spunti. Primo, fedeltà dinamica al carismo. A mio avviso, la prima sfida veramente cruciale che si troveranno ad affrontare tutti i movimenti ecclesiali e le nuove comunità nei prossimi decenni è quello della fedeltà al carisma. Si tratta in fondo di rimanere fedele alla propria identità senza estranearsi però della storia nella quale si è inseriti. Il carisma, che è all'origine dei vostri movimenti, vi ha fatto rivivere l'incontro fondamentale dei primi discepoli con Cristo e questo primo incontro è diventato in un certo senso una sorgente che ha fatto scaturire un fiume che a sua volta ha irrigato tanti terreni e ha prodotto frutti di ogni tipo. Nuove forme di preghiera, di celebrazione, nuove modalità di annuncio e di evangelizzazione, nuove tipologie di vita comune, nuove iniziative di carità e di servizio, nuove opere sociali, nuove istituzioni culturale, nuove forme artistiche, nuove modalità di impegno civile e di azione politica. Tutta questa abbondanza dei frutti scaturita dal carisma va sempre riproposta e messa a disposizione degli uomini d'oggi, che non sono più quelli di ieri. Si propongono qui due questioni distinte. La prima è come fare per offrire ad ogni nuova generazione il nucleo fondante del carisma, quello che abbiamo definito la sorgente, e non le sue derivazioni, le sue applicazioni parziali, i suoi aspetti secondari. Una seconda questione riguarda i destinatari. Lo stesso carisma si è espresso con le categorie, il linguaggio, la sensibilità di cinquanta anni fa, rischia di non essere compreso dagli uomini d'oggi. Il carisma, dunque, va, si è rappresentato nelle sue forme sorgive ad ogni nuova generazione, ma questa ripresentazione del carisma richiede uno sforzo di adattamento per risultare comprensibile agli uomini ai quali ci si rivolge. Il carisma, inoltre, va calato nel mondo contemporaneo con le sue problematiche concrete, anche queste diverse da quelle del passato e soprattutto va adatto alle varie culture che si incontrano, sapendo anche modificare o tralasciare quei rivestimenti culturali tipici della nazione nella quale il carisma ha avuto origine, ma che non sono veramente necessarie perché non appartenenti alla sua essenza. In definitiva, vi trovate di fronte alla grande sfida della fedeltà creativa al carisma, come il Santo Padre Francesco ha definito. incontrando il movimento di comunione e liberazione nell'anno 2015, Papa Francesco ha affermato Fidelità al carisma non vuol dire pietroficarlo, non vuol dire scriverlo su un pergameno e metterlo in un quadro. Il riferimento alla eredità che vi ha lasciato Don Gisani non può ridursi a un museo di ricordi, di decisioni presi, di norme di condotta. Fidelità alla tradizione, diceva Matler, significa tenere vivo il fuoco e non adorare le ceneri. Tenete vivo il fuoco della memoria di quel primo incontro e siate libri. Questo del discorso del 7 di marzo 2015. Il secondo punto, la unità. Una seconda sfida, anche fondamentale, per l'avvenire dei movimenti è quella di mantenere una fondamentale unità interna, soprattutto dopo la morte dei fondatori e dei loro primi compagni. Si tratta del difficile compito di conservare, con il passare degli anni, una reale comunione che consenta a tutti i membri di un movimento di riconoscersi nell'unico carisma, nell'unica famiglia spirituale, percepita da tutti come la propria casa. Le minacce all'unità, penso, vi sono ben note. Anzitutto il personalismo e i protagonismi di coloro che accentrano in sé tutta la vita del movimento. Le interpretazioni distorte del carisma e delle storie del movimento. Le contraposizioni fra gruppi e correnti, che si distinguono fra loro per provenienza geografica o per diverse sensibilità culturali o per diversi atteggiamenti spirituali, rigoristi o moderati. Le contraposizioni fra categorie date dalla diversità generazionale o dai diversi stati di vita, che diventano spirito di casta, laici o sacerdoti, sposati o celebre. Oggi si può dividere sui problemi e scelte contingenti, scelte riguardanti le priorità missionarie o dell'apostolato, scelte riguardanti l'impiego delle risorse umane e finanziarie, scelte circa l'opportunità o meno di schierarsi politicamente in occasione di votazione o di manifestazioni pubbliche in favore o contro determinate leggi. E si potrebbe continuare ancora a lungo. Avendo presente questi pericoli, è importante perciò curare sempre una profonda comunione spirituale fra di voi ed una solida unità, senza la quale tutto si complica. I membri dei soffrono e il movimento alla lunga ne è indebolito sensibilmente. Possiamo aggiungere una seconda dimensione della unità. Oltre all'unità interna, infatti, si pone sempre la sfida della unità esterna, cioè la comunione con le chiese particolari e i loro pastori, finché i movimenti siano pienamente incarnati nella realtà locale e mettendo in esse la ricchezza dei propri doni spirituali. Si tratta ovviamente di una maturità e di una capacità di dialogo che deve essere curata e approfondita da entrambe le parti, non solo da parte dei movimenti, ma anche da parte dei pastori, che sono chiamati a comprendere sempre meglio la specificità dei carismi. Vederli come doni di Dio per tutto il suo santo popolo e saperli adeguatamente accogliere e valorizzare come preziosi strumenti nella pastorale ordinaria delle diocesi. Un terzo punto. Sinodalità. Una terza sfida è quella della sinodalità, che entra in gioco in tanti ambiti della vita dei movimenti. Il Santo Padre ha affermato, il cammino della sinodalità è il cammino che Dio ci aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Dunque, i movimenti, in quanto essi sono chiesi, sono chiamati anche essi a coltivare e a sviluppare la sinodalità, senza mai darle per scontata. La sinodalità è di vitale importanza in vista della fedeltà creativa al carisma di cui ho parlato all'inizio. Il patrimonio spirituale del carisma, infatti, è affidato a tutti i membri di un movimento, e dunque è richiesto il contributo di tutti, l'ascolto di tutti, la riflessione comune, il dialogo e il confronto per capire come dovrà essere in futuro il vostro carisma, come dovrà declinarsi a secondo delle sempre nuove circostanze storiche e sociali che andate vivendo. La sinodalità è implicata anche nel tema delicato della formazione di coloro che possono assumere ruoli di leadership nell'attività del apostolato e anche nel governo del movimento. Proprio perché si cammina insieme e insieme si porta avanti il carisma, un movimento non può eludersi di essere guidato in eterno dalla stessa persona, ma deve preoccuparsi di mantenere attivo un processo permanente di formazione dei giovani generazioni. La sinodalità entra anche in un altro aspetto che è caratteristico dei movimenti ecclesiali. L'armonia e la cooperazione fra i diversi stati di vita. Nei movimenti si vive in modo di tutto naturale una vera fraternità e un camminare fianco a fianco fra celebre e congiugati, fra laici e sacerdote o religiosi, e anche fra fedeli e vescovi. Questa armonia fa gli stati di vita è un vero segno di sinodalità e va mantenuta e perseverata. Anche qui si presenta infatti una sfida, quella di conservare la fructuosa integrazione fra gli stati di vita, evitando che un movimento si clericalizi. I movimenti sono prevalentemente laicali ed è bene perciò che valorizzano sempre il carisma specifico e la vocazione dei laici, senza tuttavia far sorgere al loro interno né forme di anticlericalismo, né forme di passiva subordinazione alla girarchia. Quarto punto Missionarità Missionarità Altra sfida di grande importanza è l'apertura alla missione e ad un'permanente conversione missionaria. I movimenti sono intrinsecamente missionari perché alla loro origine vi è l'incontro con Gesù che cambia la vita e fa sorgere spontaneamente il desiderio e la gioia di condividere la fede in Lui. I movimenti, perciò, con il passare degli anni, non devono mai rianchiudersi in una gestione d'esistente, in una sorta di autocompiacimento e di ricerca del proprio benessere spirituale, privato e comunitario, ma devono essere sempre protesi alla missione, nel desiderio di coinvolgere nuove persone, di raggiungere altri ambienti, di generare nuova vita. Ciò significa, anzitutto, mantenere e accrescere sempre più la missionarità a gente di primo annuncio, accanto e da primo annuncio. Accanto a questo, lo slancio missionario deve rivolgersi in particolare ai giovani e alle famiglie verso i quali voi avete una notevole capacità di approccio e di accompagnamento che potete mantenere a servizio delle famiglie che si stanno per formare, di quelli che sono già formati e quelli che sperimentano momenti di crisi. E allo stesso modo, per sostenere i giovani nel difficile periodo dell'adolescenza e delle prime giovinezza, soprattutto nella scoperta della loro vocazione fondamentale alla santità e in quella specifica legata alla scelta dello stato di vita al quale Dio vi richiama. In conclusione, di fronte a tante sfide non bisogna sentarsi sobrafatti o scorreggiarsi. C'è bisogno soprattutto di una grande apertura e docilità al Signore. Non esistono, infatti, ricette già date. Tutti siete chiamati a un discernimento individuale e comunitario per cogliere ciò che lo Spirito Santo suggerisce alla Chiesa e a ognuno dei vostri movimenti e comunità in particolare. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che le prospettive nuove che lo Spirito Santo apre dinanzi a noi si presentano sempre come sfide, qualcosa che non lascia tranquilli perché lo Spirito è dinamismo è creatività è vita. Ciò richiede che i vostri movimenti sappiano aggiornare la formazione permanente offerta ai propri membri tenendo conto di queste nuove sfide e che ad esse si adinguano le attività dell'Apostolato e il servizio di carità che tutti voi portate avanti con ammirabile dedizione. Vi ringrazio tanto per il suo ascolto. grazie. 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 grazie.